Buongiorno a tutti, buon 15 giugno, e sì, siamo già a metà giugno e stanno arrivando ragazzi, i cammelli li sentite, stanno arrivando e quindi sono quasi già dentro, come veniva raccontato, i sauditi stanno cercando di prendere a suon di milioni Lukaku, convincerlo vogliono Brozovic, offerta per Dzeko, e udite udite, proprio il Newcastle di Piff sta provando a portare via Niccolò Barella all'Inter per la serie del promissario gadget, però andiamo con ordine perché se no si rischia di perdere i pezzi missione inglese poi di cui dobbiamo parlare, di ausilio a Londra per cercare i due obiettivi primari, prioritari che sono stati indicati insieme nel vertice dell'altro ieri con Inzaghi, Zhang, Ausilio, Marotta, Bacin quindi riavere Lukaku e provare a avere il prestito di Koulibaly però andiamo con ordine perché non si può, secondo me, fare una copertina con Barella e una notizia che da via della liberazione definiscono neanche veritiera non si può metterlo in copertina e poi, soprattutto, secondo me, parlare di offertona ma come fai a definire offertona per Barella 50 milioni di sterline e 60 di euro che non si avvicina neanche lontanamente al valore del giocatore? ok che in prima pagina scrivi intoccabile, ma non... cioè, sul Corriere dello Sport, a differenza della Gazzetta, questa trattativa viene accennata in un trafiletto in cui viene smontata offertona Newcastle 60 milioni per Barella per 60 milioni vediamo questo di Barella questo qua non quello vero quello finto vediamo questo Barella qua non quello vero che ha un valore che è cresciuto come sottolinea il teccaldo più famoso di YouTube e è arrivato alla finale di Champions e ha un valore minimo di 90 milioni con la stagione che ha fatto con i gol e gli assist gol importanti di Champions nei quarti con il Benfica per due ma stiamo scherzando offertona di che? ma poi è stata smentita dai massimi dirigenti dell'Inter come puoi farci tutto un pezzo metterlo in copertina state tranquilli che comunque ci siamo qui a guidarvi in questa lunga estate caldissima di mercato e a cercare di mettere a posto ogni cosa molto più serio il Corriere dello Sport vi ho detto che in un trafiletto alla fine scrive smentita sempre a proposito di rumors inglesi ieri ne ha rimbalzato un altro in merito a Barella e Newcastle avrebbe messo sul tavolo quasi 60 milioni di euro neanche 60 per acquistare il suo cartellino l'operazione sarebbe ritenuta fattibile da via della liberazione però solo smentite e questo forse è un modo un po' più corretto per affrontare gli argomenti che dire ci siamo qua al contrario sulla gazzetta viene addirittura messa prima che l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi e mandiamo ancora le nostre condoglianze la condivisione di un momento veramente duro a tutta la famiglia e a Mediaset che è stata la sua grande creatura e invenzione ma mettere una una fake news così in copertina vi fa capire quello che ci aspetta in questa lunga estate calda per Barella l'Inter è incedibile il muro di Zanga all'assalto degli inglesi e poi all'interno ancora se ne parla e addirittura tutto l'articolo l'indiscrezione rilanciata dai media inglesi non spaventa il club che vede in Nicolò il leader di oggi e del futuro ma il club l'ha smentita questa come si fa a farne tutto un pezzo poi altro argomento che prima di andare ad affrontare le notizie reali e vere no lettera degli interisti illustri presidente non venda Onana e tanti di voi hanno scritto questa cosa anche nei vostri messaggi Onana non si tocca Onana non si vende però ricordatevi una cosa ricordatevi a parte che il calcio di oggi è sempre più player trading ma ricordatevi Skriniar non si tocca Skriniar non si tocca appeso davanti alla sede ricordatevi poi quello che è successo hai perso Skriniar a zero e anche sentire lui che dice che dopo il suo rifiuto al rinnovo con l'Inter si sono lette cose inventate sui media sui giornali che le hanno provocato anche dei problemi familiari tante minacce insulti e quant'altro però bisogna essere sempre sinceri quando si dicono e si raccontano le cose bisogna assolutamente prima di tutto raccontare come sono andate veramente e poi alla fine hai promesso di rinnovare con l'Inter l'hai detto anche al mio microfono i tifosi dell'Inter sanno come sono e poi firmi col Paris Saint Germain cioè hai voglia anche a lamentarti di quello che viene raccontato è sotto gli occhi di tutti a proposito mi scrive qualche amico che mi ricorda ma non c'era Scarfake che aveva promesso la chiusura del canale se Skriniar fosse andato al Paris Saint Germain vediamo vediamo cosa succederà vediamo un po' intanto ancora ha ribadito il suo addio triste all'Inter e vediamo manca poco più di poco meno di due settimane al mese di luglio alla scadenza del contratto con l'Inter e a quello che ha già firmato con il Paris Saint Germain che andrà a rimpiazzarlo cosa cosa dire adesso intanto possiamo concentrarci sul mercato in entrata no? su quello che su quelli che sono gli obiettivi un po' di amaro in bocca è rimasto Simone Inzaghi dopo il meeting programmatico dell'altro giorno si aspettava qualcosa di diverso dopo aver centrato la finale di Champions però non cambia quello che deve essere la regola di qualsiasi società di calcio mercato si deve autofinanziare e la società deve diventare sempre più autosostenibile in questo senso anche il discorso di Onana lasciate lavorare la dirigenza può essere doloroso ma non ci si può più affezionare nel calcio di oggi ai giocatori non ci sono più le bandiere se uno l'hai preso a zero un portiere oltretutto e ti offrono 60-70 milioni a parte che ancora quest'offerta non c'è e con il Chelsea non si è toccato l'argomento vedremo se verrà affrontato oggi perché ausilio ancora a Londra ma se cedendo Onana poi sistemi il bilancio fai la plusvalenza più importante della storia dell'Inter preso a zero lo vendi a 60-70 un portiere per di più e ti permette di riportare a casa Lukaku di sistemare la difesa con Koulibaly magari ci metti pure Cialobá ti compri Vicario che tra i pali secondo me è più forte di Onana non con i piedi però comunque è un portiere fortissimo e italiano che puoi anche a cui puoi arrivare mettendo per dire che ne so Saltiriano qualche altro giovane anche come parziale contropartita per abbassare la cifra da dare all'Empoli con cui ci sono rapporti ottimi non non vedo come possa essere una un qualcosa di di clamorosamente negativo intanto non è fatto nulla e non siamo a quel punto però come ho detto anche su Skriniar lasciamo lavorare Zang e la dirigenza che hanno sempre dimostrato di anche nei momenti più difficili nelle ristrettezze di dare all'allenatore dell'Inter una rosa in grado di vincere trofei e di competere per lo Scudetto o per la Champions League quindi lasciamo lavorare e poi non andiamo dietro a tutte le fake news che circolano e che destabilizzano nella maniera solita che conosciamo bene perché queste arrivano sempre anche prima delle partite più importanti e ce ne saranno veramente molte quest'estate vediamo che succederà missione inglese Ausili ha incontrato il Chelsea e ha chiesto il prestito di Lukaku e Koulibaly che però ha un ingaggio pesante ha incontrato anche la gente di Koulibaly i ramadani che è lo stesso di Andanovic per capirci con cui c'è un'unità di intenti anche se vorrebbe riprovarci Koulibaly dopo la prima stagione non certo positiva ma come vi ho detto da tempo l'obiettivo del Chelsea adesso è fare recuperare crediti recuperare cash dopo le spese assurde che non gli hanno neanche permesso di tornare in Europa e alla richiesta la prima di ausilio senza parlare di Onana o Dumfries che comunque piacciono anche se adesso poi bisogna capire quelle che saranno le richieste di pocettino è stato detto no la nostra intenzione è quella di vendere di monetizzare non di fare degli altri prestiti però diciamo che questo primo round è molto diciamo strumentale e senza iniziare a affrontare l'argomento Onana è chiaro che il Chelsea non si smuove dalla sua posizione ma è tutta una partita lunga come abbiamo visto l'anno scorso anche l'anno scorso sembrava impossibile riportare Lukaku a casa ci si è riusciti con un grande lavoro anche di Roc Nation che ha affari e un canale preferenziale con il presidente del Chelsea Boily dunque capiamo che ci possano essere adesso delle difficoltà ma poi è ancora tutta da studiare tutta da giocare ci sono anche altri giocatori che possono rientrare lo stesso Dumfries abbiamo detto Loftus Schick Cialobah si possono fare tanti discorsi è un primo incontro diciamo primo approccio poi bisogna costruire tutta la trattativa e vedere che cosa si può fare stesso discorso sul centrocampo intanto bisogna trovare un'alternativa a Gagliardini che è uscito a zero e quindi deve si deve considerare un'entrata a zero Tucu Pereira dell'Udinese che non è per niente male secondo me a zero che può giocare anche come esterno destro e ci aggiungiamo che qualcuno magari se l'hai dimenticato sempre che non faccia come menaccio e rinnovi poi con Real Madrid Dani Sebaglios se sostituisci Gagliardini con Dani Sebaglios a zero secondo me fai un colpo da 90 per la qualità del giocatore ma anche perché lo compri a zero e ricordiamo sempre a tutti quelli che stanno negli scantinati o nei villaggi vacanze da incubo ricordiamo che riuscire a costruire una squadra con parametri zero che è sempre più quello che sarà del calcio in cui i cartellini varranno sempre meno e si andrà sempre verso un modello più simile all'NBA lo vedete dal Paris Saint Germain l'anno scorso Sergio Ramos Messi quest'anno Asensio Skriniar Turam qualcuno me lo chiede ancora vediamo vediamo se il Milan ci riuscirà ma non credo che abbia a disposizione più di 50 milioni per l'operazione Turam richiesta di Turam 10 milioni alla firma e 7 netti per 5 anni un'operazione da quasi 70 milioni cioè poi non è che se lo prendi a zero non ti costa niente no? perché anche Cialanoglu hai dovuto dare un ingaggio da 5 netti che sono 10 lordi per 4 anni che sono moltiplichi per 4 più un bonus alla firma è come se tu abbia acquistato un giocatore di 40-50 milioni ma lo stesso prestito di Lukaku ti è costato una ventina di milioni con cui avresti potuto prenderti che ne so Reteghi o Penda fare un acquisto da più di 20 milioni cioè non è che sei a costo zero ma poi guardate l'abilità con cui si è costruita la rosa al mercato da due famoso con Acerbi in prestito che adesso bisogna rinegoziare con Onana da zero vale 60-70 milioni Mkhitaryan a zero indispensabile e se ci fosse stato lui magari sarebbe finita diversamente anche la finale di Istanbul è fare affari così che ti fa la differenza e ti permette di arrivare a risultati importanti dicevamo un po' di delusione c'è da quello che filtra per Inzaghi che si aspettava magari in un budget importante per rinforzare la rosa ma questo è uno dei degli obiettivi che non cambia come da parole di Zhang dopo la finale persa l'Inter sarà rinforzata e sarà ultra competitiva con l'obiettivo seconda stella però bisogna come sempre cercare di autosostenersi poi bisogna vedere anche che occasioni si presentano su Milinkovic vi ho detto mi sembra che qualcuno sia arrivato a ribadire anche quello che vi dico da giorni qualcuno molto importante sul calcio mercato Lottito non ci pensa neanche a scendere sotto i 40 milioni che è una cifra che non esiste per un giocatore che va in scadenza tra un anno e che come Mbappé col PSG se va in scadenza 2024 sei costretto a venderlo quindi vediamo se c'è possibilità realmente e se soprattutto scende magari anche sotto i 30 ma mi sembra impossibile però il rischio è che poi lo perda a zero più semplice è la via frattesi che per qualcuno non è da Inter secondo me è molto da Inter è un Barella alle prime armi che deve ancora crescere può fare tantissimo italiano è una mezzala perfetta per il 3-5-2 si integrerebbe benissimo nel centrocampo dell'Inter con Barella Ciala Mkhitaryan Brozovic da capire se vuole andare via come qualche mese fa o restare al momento non ci sono offerte se non qualche interessamento dall'Arabia Saudita per questa Lega che diventa sempre più importante perché l'obiettivo appunto è quello di costruire un campionato e funzionale poi al mondiale del 2030 più facile arrivare a Frattesi offerta dell'Inter cash più mulattieri che è stato contro riscattato dal Frosinone con i soldi che sono entrati dal riscatto della Salernitana per Pirola 5 milioni arrivati e dati che verranno poi indirizzati al Frosinone con mulattieri si scende di una decina di milioni secondo me quindi te ne possono bastare 20 ma magari metti un altro giovane tutte operazioni che con la Lazio per Milinkovic non puoi fare però serve serve l'uscita di un Brozo o di comunque qualcuno a centrocampo ma al momento non si muove nulla e nessuno e anzi non sarebbe male che visto anche il Brozovic di ieri sera in Nations League che rimanga così voglioso di Inter come tutti abbiamo detto della missione inglese sirene turche per Dzeko che sembra sempre un po' più lontano domani arriva il rinnovo di De Vraia ruota Cialanoglu bastoni Cordaz D'Ambrosio chiede un biennale l'Inter offre un anno piace il giovane under 21 tedesco Bissek gigante di un metro 96 che ha una clausola da 7 milioni golarus e che potrebbe prendere il posto nella rosa di D'Ambrosio magari con una cifra inferiore vedremo elemento molto futuribile promettente per l'attacco ecco ci manca l'attacco missione inglese anche per capire c'è la Roma forte su Scamacca anche il Milan l'Inter l'Inter se si riuscisse a prenderlo in presito ci può pensare come terzo barra quarto attaccante e riformare poi la coppia d'oro con il suo miglior amico Frattesi non facile come pista si sono anche ausilio ha chiesto informazioni per Baloghan rientrato all'Arsenal dopo aver fatto una grandissima stagione in Ligan con Rams ancora secondo me molto più interessante però non credo che la cifra richiesta sia così accessibile Reteghi lo vedremo adesso con l'Italia l'Inter è sempre in Pol così come in Pol su Frattesi però bisogna fare veloce se non ci sono delle uscite l'Inter prima deve trovare del budget vedremo se ce ne sarà anche senza le cessioni non è da escludere anche questa possibilità Correa si è parlato dello stesso Fenerbace che vuole Dzeko che potrebbe fargli un'offerta importante ma sembra che lui rifiuti e questo crea problemi perché l'abbiamo visto anche l'estate scorsa tutte le resistenze di Sanchez le trattative per la buona uscita hanno fatto perdere tempo e di bala quindi bisogna accelerare state tranquilli che ci siamo qui noi e questo gli possiamo dare per 50 milioni 60 neanche un po' di vostri messaggi li andiamo a leggere adesso al video di ieri proseguono intanto oggi gli incontri a Londra ma sono diciamo una prima fase esplorativa poi si vedrà come andare anche avanti capendo le piste percorribili o meno però anche comunque la cena col Sassuolo missione inglese di ausilio è partito il mercato mercato vero dopo la finale di Champions Giacomo la personalità di Onana non è comune fare la differenza è sicuro di sé e lo trasmette alla squadra è pieno di buoni portieri ci vogliono uomini che non hanno paura nei momenti che contano non lo venderei ma nessuno lo venderebbe però bisogna capire anche sull'altro piatto della bilancia cosa c'è anche Aris dice addirittura a Pep Guardiola ha detto che l'uomo che lo ha impressionato di più è stato Onana non aggiungo altro se poi è assolutamente necessario per la sopravvivenza del club il Chelsea ci dovesse dare Lukaku e Koulibaly in prestito i 50 milioni magari poi se ne riparla Gianluigi dice a mio avviso credo che comprare calciatori simili per Wall va bene ma differenziarne qualcuno può essere più interessante ad esempio Frattesi Mininkovic Savic sono molto differenti se abbiamo perso Casadei la colpa è solo di Skriniar che non ci ha permesso di incassare una grossa somma anche questo è vero attendo con ansia che ci venga raccontato cosa sia successo come si sia comportato lo Slovacco ma Pierangelo se ci segui lo sai già aveva promesso di rinnovare poi dopo ha firmato col PSG se no l'Inter l'avrebbe venduto sempre complimenti Maurizio Miotto per la tua disamina per quanto riguarda Lukaku quello visto nell'ultima parte di stagione l'otterrei mi preoccupano più le altre sostituzioni di Correa e Dzeko Luque Bacchio ecco non l'abbiamo ricordato come al posto di Correa secondo me con l'ERTA retrocesso anche meno di 10 milioni possono permetterti di arrivare a questo attaccante veloce serve gente veloce rapida che fa superiorità numerica che salta l'uomo che non abbiamo Luque Bacchio è uno di quelli che salta mette l'assist come fa il nazionale con Lukaku Onana fondamentale Alec grazie per tutto quello che fai per noi interisti Alan belli i nomi che si sono fatti ma solo una paura continuando ad andare sui parametri 0 over 30 si rischia di non avere più immagini di fare quel player trading di cui si parla tanto perché c'è sempre un mix Bellanova Slani e i parametri 0 e poi è una cantera che come con Casa Dei guarda cosa ti produce guarda che campionata ha fatto Fabian Noristagno e Filip Stankovic nel volend a Minere e Divisie Mulattieri guarda che ha fatto più di 10 gol in Serie B non dimenticare la cantera poi e comunque l'Inter va a comprare sempre un mix di giovani e di giocatori esperti Scalvini è sempre un obiettivo ma se riesce ad arrivare a Coulibaly in prestito forse è meglio quello ma magari non riesce ad arrivarci allora poi torni su Scalvini ma aspettiamo sono solo le prime mosse magari anche strumentali che nascondono altro e ci sono sempre quei due nomi nascosti nel cassetto come detto ieri Venderonana sarebbe un grandissimo errore però lasciate lavorare la dirigenza Milinkovic Savic per me elemento fondamentale per la prossima stagione fortissimo dal punto di vista fisico anche bravo negli assist nei gol però molto altalenante ti dico Mauro continuiamo a ripetere che dobbiamo fare un mercato di autofinanziamento allora perché non valutiamo i vari profili a zero ecco Aguara indica della Roma secondo me sono due bei colpi anche perché indica ho visto le cifre 3 milioni a stagione l'avrei preso ok che gioca a sinistra dove c'è bastoni però impostare uno dei due come non lo so io l'avrei preso in ogni caso vedremo poi cosa farà per quanto mi piaccia Vicario rimango dell'idea che dar via Onana sia una follia tutto da da vedere Germanico dobbiamo avere una squadra pronta e sostituti giusti per farla rifiatare quindi niente più casi Correa o giocatori che non rendono però non è che puoi sempre azzeccarci tutti guardate anche tutti gli errori di mercato che ha fatto il Milan che hanno portato addirittura a silurare Maldini per centimetri il Porto non segnò nel recupero Aldalus con quella palla deviata da Onana sulla traversa e poi Screener che la spazza a volte si dà a volte si riceve credo che sia importante sottolineare come Romelo abbia sbagliato un gol fatto più per imprecisione sua che per sfortuna ma lì poi è relativo perché non ti finisce sul polpaccio di Ederson è un'altra cosa finisce diversamente user grande barza sempre attivo sul mercato per me basta che non mi vendono barella tutto il resto è modificabile saluti e buon lavoro gli diamo questo a tutti quelli che lo vogliono non si tocca e poi da via della liberazione hanno detto fake ma poi vale 90 offertona a neanche 60 ma ci rendiamo conto un po' di rassegna stampa anche se abbiamo già letto le cose principali Gazzetta appunto sulla notizia smentita su Barella e poi secondo voi Barella lascia l'Inter la sua squadra per andare al Newcastle che è tornata in Champions dopo un secolo dopo comunque ha già un signor contratto rinnovato offertona a Newcastle Marotta e Zhang non si vende pronti 60 milioni che non sono neanche tali leader di oggi e del futuro Lukaku Koulibaly il Chelsea per ora dice no al prestito il DS Ausilio in Inghilterra oggi nuovi incontri con club e agenti si parla anche di Baloghan del Rams altra inesattezza che viene scritta sulla Gazzetta che quest'anno la campagna acquisti Nerazzurra deve chiudersi in attivo di 50-60 milioni niente di tutto questo altra inesattezza cosmica perché l'Inter ha messo a posto i suoi conti con la campagna europea non ha l'esigenza di fare un attivo sul mercato che è sempre meglio ma che in questo caso deve solo finanziare eventuali colpi in entrata Corriere dello Sport molto più serio si parla della missione inglese e viene smentita la notizia su Barella l'abbiamo detto così come anche sul Corriere della Sera appuntamento in live questa sera ore 13 Italia 1 mi raccomando